Un piano regolatore degli orari di lavoro nelle aziende e di accesso alle scuole su cui pianificare il servizio di trasporto pubblico locale in Toscana. In vista della graduale riapertura a partire da maggio delle attività produttive e commerciali chiuse per l'epidemia di covid e soprattutto della riapertura delle scuole a partire da settembre, la regione ha iniziato a lavorare su una totale riorganizzazione dei trasporti pubblici per garantire il servizio nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sia per i lavoratori che per gli utenti. L'uso delle mascherine, dei guanti protettivi e del gel disinfettante è sicuramente consigliato ma quello che è difficile assicurare è il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e ottanta. Certo è che noi con i mezzi a disposizione non possiamo farcela se non pensiamo tutti assieme a riorganizzare nei territori, nelle scuole, nelle aziende un diverso modo di lavorare e dei turni differenziati per quanto riguarda le aziende, delle entrate scaglionate per quanto riguarda le scuole. La regione ha quindi avviato un confronto con sindacati, aziende, comuni e ministero per mettere a punto un vero e proprio piano regolatore degli orari. Non è un compito semplice, ci stiamo lavorando, ci sarà bisogno anche di una massima collaborazione per tutelare e per controllare i flussi di entrata e di uscita dei mezzi separando magari l'ingresso dall'uscita, ricorrendo a delle nuove figure professionali che possano controllare questi flussi, la massima collaborazione con le forze dell'ordine. Noi stiamo già pensando a questa nuova programmazione e ce la metteremo tutta per far sì che il trasporto pubblico locale rimanga comunque un servizio utile, un servizio che può garantire in sicurezza la mobilità dei cittadini.